Ieri ha avuto contatti con i vertici Rai dopo l'appello a rafforzare... Sì, 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 ho chiamato l'amministratore legato, ho chiamato Campodallorto e l'ho invitato a venire a Milano. Non ho un'idea precostituita, dico solo che siccome si è tanto parlato dell'ipotesi di portare qualcosa a Milano, credo che sia il momento di riflettere e che è il momento anche che chiariscano al sindaco se ci sono reali intenzioni. Ho sentito parlare di TG2, ho sentito parlare di centri di produzione, di contenuti che sono vicini alla cultura, alla tradizione milanese, all'industria, alla finanza, alla creatività. A me interessa che qualcosa si faccia, credo che Milano lo meriti. Credo che sia un bene anche per la Rai, però Campodallorto verrà a Milano, adesso ci stiamo accordando, ma certamente non molto in là, nei prossimi giorni in maniera tale da poter cominciare a fare una riflessione serena.